buongiorno a tutti benvenuti ben ritrovati ore 10 e 22 di mercoledì 19 giugno torniamo con le nostre dirette anche se ieri comunque ci siamo sentiti perché abbiamo fatto la consueta diretta su classe cnbc del martedì quindi dalle 11 e un quarto 11 e 10 circa fino alle 12 e 30 quindi tantissime sono state le domande cui ho risposto in diretta con emmerich denarda e vi ho postato la registrazione all'interno del canale telegram e poi successivamente anche su tutti gli altri social instagram facebook twitter linkedin eccetera 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 andiamo subito a vedere la situazione di quest'oggi eccola qua con un bitcoin che continua ad arretrare siamo arrivati a 65.286 dollari il dax in territorio negativo meno 0.16 per cento euro stocks pure territorio negativo il fuzzimib invece il nostro mercato recupera ancora un 0,34 per cento oro vicino alla parità btp ancora che torna debole meno 0.15 per cento spread più 1.57 wti crude oil meno 0.47 per cento mercati americani leggermente positivi soprattutto il nasdaq più 0.17 per cento andiamo a vedere questo che è il nostro grafico a 15 minuti dove utilizzo un trading system che di cui dispongono anche alcuni clienti sul time frame 15 minuti che dopo aver cavalcato questo lungo short nei giorni scorsi ieri si è girato chiuso lo short e si è messo e si è messo long attualmente che cosa sta succedendo che abbiamo un mercato che è partito debole cioè quanto meno subito dopo l'apertura che è stata leggermente positiva e scivolato giù in territorio negativo meno 0.11 per cento torna 9 e un quarto e poi la risalita che ci ha portato con a guadagnare anche oltre 1 0.43 per cento 1 0.50 mentre ora ritraccia qualcosina volumi buoni questa mattina sui future dal punto di vista del grafico weekly è fondamentale la tenuta del supporto il minimo della scorsa settimana 32.490 perché in caso di cedimento potrebbero essere veramente dolori andando giù verso i 31.000 ma già come ho dichiarato nel report settimanale che ho legato lunedì il mio scenario a era quello del recupero finora lo abbiamo visto con la resistenza da tenere d'occhio i 33.835 ecco questo è livello importante perché qua potremmo avere un test di importante di esaurimento o meno di forza del rialzo già il fatto che il primo livello di resistenza evidenziato anche ieri in diretta con emmerich denarda sui 33.300 punti sia stato superato è una cosa positiva ora ci attendono i 33.830 come resistenza poi andiamo vi anticipo che domani sarà una puntata dedicata ai trading system in particolar modo ai trading system perché sarà l'occasione oltre che per fare un po di didattica parlare di trading system anche per fare il punto sulle varie rubriche ci avviciniamo alla fine del mese di giugno quindi fine del primo semestre e faremo quindi il punto su come stanno andando le varie rubriche azioni italia azioni usa etf sia per il trading sia le varie rubriche che sono meno conosciute quelle di robo advisory quindi con i portafogli di investing i portafogli modello di investimento e non di trading speculativo ma che stanno andando molto molto bene e a livello di performance sono molto molto buone poi le vedremo comunque domani poi per quanto riguarda i future sugli indici non è cambiata molto la situazione rispetto a quanto ci siamo detti anche nel report di lunedì il euro stocks viaggio in territorio leggermente negativo l'abbiamo chiuso ieri metà posizione a target siamo a questo punto con una posizione che con il ritracciamento odierno ha preso anche il trailing stop profit quindi usciti dall'euro stocks in guadagno e ci siamo rimessi flat nel per quanto riguarda il multi day e poi lo vedremo meglio nei portafogli investing che vi mostrerò domani siamo investiti sugli stati uniti ancora scarichi di europa ci siamo scaricati di europa tra metà maggio e fine maggio e continuiamo ad essere abbastanza scarichi mentre non dico che siamo full gas ma comunque abbastanza carichi di america e di indici internazionali mci world titan 50 eccetera eccetera bene per quanto riguarda i titoli andiamo a vedere una panoramica di che cosa sta spingendo forte questa mattina titoli che spingono forte quest'oggi ecco qua prendiamo il il la chart del delle performance eni più 1 29 rimbalza prismian più 1 15 i veco group pure fa il rimbalzo stellantis 0 85 leonardo più 0 80 poi invece dall'altra parte performance negative ce ne abbiamo su saipem che perde l'1 44 campari l'1 23 st micro elettronix 0 91 amplifon 0 90 erg meno 0 58 vediamo un po di dar un'occhiata anche agli hft andiamo a vedere la situazione vediamo un po di cambiare la schermata arriviamo un attimo solo di di pazienza eccoci qua questa è la schermata dagli hft dal dalle 9 0 5 quindi veco group prismia moncler eni titoli più comprati dalle macchinette con maggiori flussi quindi i veco group è quello che è più lavorato dalle macchinette in acquisto ci sono la maggior parte i titoli sono comprati quest'oggi mentre abbiamo flussi negativi ve lo vediamo su saipem che particolarmente negativi flussi su saipem poi st micro elettronix amplifon campari nexi quindi saipem quest'oggi affossata molto dalle macchinette mentre i veco group è quello su cui spingono più forte questa mattina c'è anche moncler questa mattina molto comprata però moncler ha un trend così negativo che per me sono acquisti da ricopertura questi è quindi farei attenzione sfrutterei questa informazione per chi utilizza hft flow scanner e se avete degli short per chiudere gli short eventualmente ma non per andare a fare degli acquisti ecco perché credo che siano flussi gli hft ricopertura queste e non e non acquisti con l'aspettativa che il titolo salga molto più in alto andiamo a vedere quelle che sono le vostre domande che sono già arrivate copiose sono entrato su microsoft come da reportazioni usa mi chiedo quando raggiungerà il target segnalato non lo so nemmeno io quando però il modello modello trend follower e quindi per il momento punta in alto vista la volatilità del nasdaq e quindi punta punta in alto abbiamo visto come nvidia ad esempio che ancora più volatile ancora più direzionale rispetto all'acquisto sta guadagnando se non ricordo male attorno al 30 per cento e quindi giusto con questa volatilità del nasdaq e con questi movimenti cercare il trading system puntano alto resistenza e poi naturalmente essendo dei stop e target adattivi il target nel caso in cui la volatilità diminuisse andrà varrà ridimensionato dal modello resistenza per ferrari dunque ferrari titolo che vediamo spessissimo analizziamo tante volte quindi non mi sto troppo a ripetere su quanto già ha detto numerose volte a livello di impostazione sul fatto che ha perso smalto e bla 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 supporti li abbiamo già visti tante volte sono questi tracciati sul grafico le resistenze pure sono abbastanza facili da individuare quella più importante è questa resistenza qua sui 3 89.4 che è stata sì sbavata nella settimana scorsa l'avevamo comprata e chiusa praticamente poco più che a pareggio in un trading più veloce ma se guardiamo il weekly la chiusura weekly è rimasta sotto a questa resistenza quindi la resistenza sul weekly è ancora intatta e quindi parte dai 3 89.4 e culmina qua sui 3 94.4 quindi finché se guardiamo in ottica weekly finché non chiuderà la settimana sopra i 3 89.4 ferrari in ottica di medio lungo periodo non riprenderà il trend rialzista in ottica speculativa di breve il massimo che è stato toccato questa settimana 388.9 è leggermente inferiore ai 3 89.4 quindi anche in questo caso valgono i 3 89.4 come livello di resistenza a cui guardare per un trading speculativo di breve trading speculativo di breve senza aspettare il close trading invece multiday weekly consigliabile attendere la rottura della resistenza confermata in close però ribadisco per ora ferrari da l'impressione di non voler andare da nessuna parte tant'è che questo che si è formato la scorsa settimana è un key reversal weekly ribassista perché è un nuovo massimo chiusura inferiore a quella precedente quindi io ho tutta questa fretta di voler rientrare su ferrari se si è usciti non la vedo sinceramente per ora oppure se si vuole entrare e si vuole minimizzare il rapporto rischio rendimento meglio farlo vicino a questi livelli di supporto che sono già stati tracciati quindi ad esempio adesso 385.9 rispetto alla chiusura weekly della scorsa settimana che era 3 e 79.7 e siamo già un po' più alti quindi rispetto al supporto era certamente meglio la scorsa settimana se si vuole minimizzare il rischio che non adesso poi andiamo a vedere le altre domande altre domande dunque analisi di bpm e b per vediamo b per bpm bpm secondo me l'abbiamo vista già ieri su class smbc b per a mia memoria no per quanto riguarda b per questo partiamo sempre il grafico settimanale vedete come questa dopo questa candela inside weekly abbia rotto il minimo della congestione la scorsa settimana quindi con un'accelerazione ribassista importante ha perso l'11 e 33 per cento è rimasta tutto sommato nonostante questa forte discesa di oltre l'11 per cento all'interno di un trend rialzista massimo e minimi crescenti il supporto più importante in ottica di medio lungo periodo inizia dai 4.06 ha fatto sta facendo il suo rimbalzo già adesso quindi b per è credo uno dei titoli bancari che rimane meglio impostato attualmente perché comunque come abbiamo visto sul grafico weekly è all'interno ancora del suo canale rialzista di massimo e minimi quindi di medio lungo periodo nel breve se lo guardiamo sul giornaliero il deterioramento è stato più sensibile quindi in ottica di trend di breve abbiamo ceduto sul supporto dei 4.51 è vero che ha fatto il pullback sopra i 4.51 ha recuperato questa soglia però dà l'impressione di voler riprendere a scendere quindi per me al massimo occorre puntare sui 4.76 come livello target ma credo che ho l'impressione che possa riprendere a scendere forse anche prima di quel livello nel caso di rottura di questo minimo che il primo livello di supporto 4.26 ci aspettano i 4.06 visto prima sul weekly rimarrebbe comunque un livello in grado di poter far rimanere il titolo all'interno del suo trend rialzista di medio lungo periodo quindi pullback risalita e poi un rischio comunque di correzione verso i 4.06 non è da escludere banco BPM più facile da decifrare l'abbiamo visto ieri su classe CNBC perché qua abbiamo avuto se seguite con attenzione i miei rubrici ormai li dovreste identificare da soli poi avete anche se avete comprato il libro chi ha comprato il libro ha anche la possibilità di scaricarsi tutti gli scanner per i pattern e key reversal abbiamo avuto due key reversal ribassisti su banco BPM proprio cavallo dei massimi quindi qui non si può dire che i segnali di discesa per banco BPM non ci fossero c'erano e anche abbastanza ripetuti quindi prima questo poi è ritornato vicino ai massimi ha rifatto un secondo key reversal ribassista senza negare quello precedente e ha iniziato la sua discesa ora il supporto più importante sui 5.66 per il momento regge anche su questo minimo che è i 5.808 in close prima resistenza 6.10 io credo che finché non romperà i 6.10 è più prudente rimanere fuori perché c'è il rischio anche in questo caso che a contatto con i 6.10 il banco BPM possa ritornare a scendere andare verso i 5.66 come supporto in ottica di medio lungo periodo il titolo è ancora bullish lo vedete questa è la trend line tracciata sul weekly quindi chi ha investito e ha comprato molto basso banco BPM poteva eventualmente alleggerire qua perché guardate che ha fatto un key reversal due key reversal ribassisti anche sul weekly quindi questo era il titolo più facile banco BPM da decifrare rispetto a Biper, Unicredit eccetera l'ho detto ieri mattina su classe NBC Unicredit ha rotto i massimi e poi è sceso quindi era difficilissimo avere dei segnali anticipatori della discesa di Unicredit mentre i segnali anticipatori della discesa di Banco BPM ne abbiamo avuti sia sul weekly sia sul daily quindi i dubbi qua ce n'erano pochi tuttavia dopo questa forte discesa che è stata almeno 9.62 meno peggio di quella di Biper abbiamo il trend weekly ancora in tato quindi se avete Banco BPM in carico comprato a molto basso a 3 euro a 4 a 5 quello che è qui segnale di alleggerimento della posizione il segnale di rientri ancora per me non c'è stato il titolo potrebbe arrivare anche sui 5.66 ma anche un po' più giù senza andare a interrompere il trend realzista in ottica speculativa di breve per me segnali di riacquisto ancora a meno che che non abbiate comprato proprio lunedì in open come da report che c'è come da aspettativa di rimbalzo insomma farlo adesso secondo me può essere un rischio da non prendersi prima della resistenza dei 6 e 10 poi l'ho già detto stagionalità è negativa non c'è fretta di voler rientrare in Europa meglio concentrarsi per ora abbiamo avuto e l'ho già detto settimane scorse avevo già detto del fatto dell'alleggerimento dell'Europa del fatto che eravamo usciti in particolar modo sull'Italia di mantenere quantitativi leggeri mantenere un'ottica speculativa di breve lo ripeto queste regole qua queste cose sono ancora valide prospettiva di breve per l'azionario Italia speculazione eventualmente di breve nessuna fretta di ricaricare in ottica di medio periodo temo che si possa essere ancora un periodo così di incertezza a meno che non spacchiamo la resistenza sui 33,8 temo che l'Italia possa sottoperformare ancora quest'estate i mercati americani in particolar modo il Nasdaq quindi queste regole ancora fino a smentita del mercato vanno seguite fatto anche Banco BPM poi Patrizia che mi chiede l'analisi di NVIDIA NVIDIA se uno non si vuole mordere le mani c'è solo da prenderla su un pullback in modo da minimizzare il rischio e poi provare a stare dentro il più lungo possibile noi nella rubrica reportazioni USA e vado anche magari a condividervi un attimo eccola qua questa è la situazione del nostro portafoglio USA siamo long di Apple, di Amazon, di Meta situazione più incerta è quella di Amazon Apple bene Meta e Microsoft incressi più recenti in particolar modo quello di Microsoft e poi NVIDIA comprata al prezzo rettificato post split 89.2 metà posizione colpita target trailing stop profit a 122 quindi questa è la posizione per chi ha seguito il buy della rubrica su NVIDIA per invece chi lo sta guardando adesso andiamo a prendere il grafico quindi per chi fosse fuori o per chi volesse comunque in ogni caso un'analisi di NVIDIA andiamo a prendere il titolo NVIDIA Corporation un titolo ha bucato la resistenza questa dove c'era un key reversal ribassista e che ha prodotto effetto perché dopo questo key reversal ribassista il mercato si è riportato su non lo ha bucato è continuato a scendere e quindi questo key reversal che è anche un birish engulfing dai 97.40 ha fatto le quotazioni le ha portate 75.61 quindi quasi 20 dollari di calo quindi un 20% chiaramente c'è un key reversal ribassista non si compra fino a quando il key reversal ribassista non viene negato o non c'è un pattern uguale al contrario più basso che cosa è accaduto che poi NVIDIA ha iniziato la fase di recupero ha rotto la resistenza 97.82 ed è partita schizzata nuovamente a rialzo e dopo la rottura della resistenza ha guadagnato già un quasi un 40% 135.58 l'ultima chiusura daily di NVIDIA che anche ieri ha guadagnato il più 3,51% ricordo però una cosa importante a livello di calendario io ho condiviso il report azioni USA però oggi la borsa americana è chiusa quindi i segnali che sono stati dati verranno chiaramente per domani a livello quindi torniamo su NVIDIA è talmente forte NVIDIA in questo momento che se ne è fregata il 17 giugno di questo key reversal ribassista l'ha negato immediatamente quindi l'ha rotto dando e vedete che appena l'ha rotto ha nuovamente ricoperture magari di chi si era messo short qui o chi aveva venduto immediatamente ricomprato e quindi al superamento del massimo c'è stata un'ulteriore accelerazione più 3,51% con chiusura molto forte vicino ai massimi di giornata primo livello di supporto dov'è? il primo livello di supporto è qui poi abbiamo un secondo livello di supporto quindi 125,58 un secondo livello di supporto più importante in questa zona 116,71 poi abbiamo un terzo livello di supporto per NVIDIA qui sui 107 e poi 97,82 siamo in forti per comprato 84,98 quindi ci poteva stare già dopo questo key reversal ribassista che qualcuno si fosse messo short e come detto sicuramente si è ricoperto subito alla rottura del massimo uno storno comunque credo che potrebbe non tardare siamo molto tirati con gli oscillatori anche qui vedete che eravamo stati molto tirati con questo Birish and Galfing aveva fatto questo calo in precedenza era rimasta comunque molto sostenuta continuando a salire quindi guardando solo l'ipercomprato l'ipercomprato non è una condizione sufficiente per un titolo fortissimo come NVIDIA per determinare un'inversione di trend quello che mi piace meno diciamo che la rottura di questo massimo è stato accompagnato da volumi più bassi rispetto a quelli che erano stati i volumi di maggio ed inizio giugno quindi a maggior ragione una correzione potrebbe non tardare però per adesso i segnali ancora a parte quello di ieri l'altro che è stato un falso segnale non ce ne sono quindi noi siamo long su NVIDIA e proviamo a lasciare correre il più a lungo possibile è diverso l'ottica speculativa di breve se qualcuno vuol cercare lo short si deve essere pronto a ricoprirsi subito perché il titolo comunque è un titolo che indubbiamente nel medio lungo sembra poter volere ancora salire a livelli ancora più alti i 150 dollari potrebbero non essere utopia vado a vedere prima di lasciarvi le domande anche su YouTube se ce ne sono vediamo un po' sì ce ne sono parecchie allora mi sembra vedere l'inizio di inversione rialzista sul titolo Eni o su parere di analisi tecnica andiamo a vedere il titolo Gianluca intanto mi chiede Mediolanum se non dovessi fare in tempo a fare Mediolanum perché le domande su YouTube sono tante e il tempo a mia disposizione non sarà enorme si vada per cortesia a vedere l'analisi che ho fatto ieri appena ieri ed è ancora valida non è cambiato nulla a livello di analisi su classe cnbc ho condiviso la registrazione la trova nel canale telegram e su tutti i social e trova Mediolanum e andiamo a vedere invece subito Eni quindi che cosa ci dice Eni ritorniamo sull'Italia Eni eccola qua dunque Eni che cosa ha fatto Eni ha rotto i supporti avevo invitato anche qui la prudenza sul titolo Eni è stato giusto invitare la prudenza aveva fatto un doppio chi reversa l'erribassista non uno ma ben due con la rottura del supporto sui 14 e 54 poi mi è andata a bucare anche il supporto sui 14 e guardate che anche qua ha fatto due chi reversa l'erribassisti bucando i 14 e ne ha fatto uno qui e poi subito dopo ha avuto un po' di incertezza perché ha fatto chi reversa l'erribassista rialzista e di nuovo ribassista quindi ha avuto ragione quello ribassista per due volte e rompendo il supporto e quindi c'è stato un po' di lotta diciamo così si sono se le sono un po' date come sul ring compratori e venditori e cavallo del supporto ma hanno prevalso poi i venditori e fino a che qua non si è formato un chi reversa l'erribassista chi non è attento e ancora non ha imparato a riconoscerli potrebbe dire oi boh come un chi reversa l'erribassista rialzista questo ma se la candela è rossa certo è una candela rossa ma è un chi reversa l'erribassista perché il minimo è inferiore a quello precedente ma la chiusura è positiva è superiore a quella precedente vedete più 0.19 quindi chi reversa l'erribassista rialzista chiedo scusa per Eni eccolo qua e chi reversa l'erribassista che si è formato dove con una situazione di ipervenduto con l'oscillatore RSI molto in ipervenduto 22 in valore piuttosto basso quindi qui il segnale di possibile recupero di Eni l'abbiamo avuto non oggi ma l'abbiamo avuto il 17 giugno ok chi reversa l'erribassista in ipervenduto seduta successiva mi ha riguadagnato l'1.85 oggi recupera ancora un 1.07 per cento ma ma quindi o entravate subito dopo il chi reversa l'erribassista e adesso già un pensierino ad alleggerire la posizione io lo farei perché questo tracciato è stato un supporto e ora è diventato resistenza e quindi un pensierino a livello didattico questa posizione come avrebbe dovuto essere gestita chi reversa l'erribassista in ipervenduto entro in open qui arrivo vicino alla resistenza dei 14.01 che è stato primo supporto smezzo la posizione se ho un'ottica temporale multi day speculativa non di brevissimo e porto lo stop a pareggio e quindi a zero il rischio dell'operazione porto o quasi ecco perché c'è sempre il rischio gap quindi porto il rischio dell'operazione vicino allo zero perché ho già monetizzato metà e metà lo porto lo stop a pareggio ora se non si è fatto questo non si è seguito il chi reversa l'erribassista in ipervenduto e si vuole entrare adesso vicino alla resistenza io non lo farei perché una delle regole delle tante che vi ripeto ormai lo sfinimento non si compra tra un supporto e una resistenza e la regola molto simile non si anticipa mai la rottura di una resistenza o di un supporto quindi comprare adesso a ridosso i 14.01 mi sembra con un massimo che è stato fatto a 13.99 quest'oggi prima del leggero arretramento che stiamo vedendo mi sembra poco saggio poi dovesse bucarmi 14 confermando la rottura incloso ancora di più puoi risalire sopra al massimo di questi due chi reversa l'erribassisti allora sì allora il rialzo prenderebbe ulteriore linfa prenderebbe ulteriore forza molto probabilmente col target che si alzerebbe sui 14.50 ed è un rischio diciamo così che con quella gestione del trade precedente ci si potrebbe assumere perché se io fossi entrato qua dopo il chi reversa il rialzista in open chiudevo metà posizione a target a ridosso della resistenza porto lo stop a pareggio mi scende mi prende lo stop pazienza comunque metà posizione l'ho chiusa target mi buca il minimo pazienza la riaspetterò più giù comunque metà posizione l'ho chiusa target l'altra metà a pareggio mi sale mi buca la resistenza e con quel 50% che ho ancora in posizione provo a lasciare a correre mi va a bucare le resistenze qua a 14.15 provo a lasciare correre e magari mi arriva anche a 14.54 entrare adesso invece a ridosso dei 14.01 insomma lo vedo un rischio più alto anche in termini di posizionamento dello stop perché qua lo stop dove lo vado a mettere lo stop sensato sarebbe qua sotto sotto ai 13.48 però sono già mezzo euro quindi è già più complicata l'operazione da mettere in piedi adesso quindi abbiamo fatto un pochino di didattica che spero vi sia utile a livello di logica poi come abbiamo visto tante volte sbagliano anche key reversal anche in ipervendute eccetera però il rapporto rischio rendimento vedete l'ampiezza dello stop è molto piccola quindi il rapporto rischio rendimento è favorevole in un caso di quel tipo rischiavo poco perché torniamo qua a guardare il mio rischio qual era entrando in open qua il mio rischio era dall'open 13.584 rispetto al minimo del key reversal 13.484 è un rischio piccolo ma rispetto ai 13.484 di minimo del 17 di giugno entrare adesso a 14.01 è già un rischio invece che non è più 14.15 centesimi ma mezzo euro dunque trattata Eni con dovizia di dettagli mi sembra che il mercato italiano sia in sofferenza quando potrà ripartire presumibilmente Andrea mi sembra bene che il mercato italiano sia in sofferenza lo sto ripetendo l'ho scritto in ogni dove lo sto ripetendo in ogni dove concordo assolutamente che è in sofferenza quando potrà ripartire mi sono espresso anche prima dicendo che e lo ribadisco per me prudenza 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 sull'Europa col timore che possa rimanere laterale e comunque sotto resistenza anche per tutto giugno e forse anche luglio fino a quando non sarò smentito il 33.8 già detto che potrebbe essere un livello di resistenza difficile da superare e sarà quello un test perché oltre il 33.8 il mercato riprenderà forza e quindi bisognerà mettere in cantina poi probabilmente i timori di un cedimento dei minimi e quindi di un periodo difficile per l'Italia però c'è da aspettare c'è da aspettare ancora la rottura di 33.8 prima di scansare i timori quindi ho già detto leggeri che io ho alleggerito a maggio sull'Italia e sull'Europa e mantenere una prospettiva speculativa di breve lo ribadisco perché a volte c'è chi non è attento non segue con attenzione e lo ribadisco 12 volte a rischio di diventare noioso prospettiva di breve nessuna fretta di appesantire i portafogli sull'Italia e sull'Europa io l'unica cosa che ho fatto ieri in un prodotto dove i miei modelli sono utilizzati per l'advisor di un prodotto quotato gestito i miei modelli hanno tolto le coperture sull'Italia hanno tolto gli short hanno tolto gli short che erano stati fatti sull'Italia ma l'Italia è ampiamente sottopesata non abbiamo credo in portafoglio se non ricordo male abbiamo un 7-8% d'Italia tutto il resto sono mercati americani e mercati internazionali poi gli incentivi auto possono cambiare la situazione di Stellantis allora Stellantis è un colosso Stellantis è un colosso oramai non parliamo più della Fiat ok non parliamo più della Fiat che vende prevalentemente in Italia Stellantis il gruppo Stellantis è un colosso a livello mondiale worldwide che vende in tutto il mondo quindi gli incentivi possono dare una mano senza dubbio in Italia e nel resto d'Europa ma non possono essere credo un pagliativo quindi il problema più grosso è fare dei modelli che piacciono modelli che non abbiano problemi motori che non si sbricilino a 70.000 km e questi sono i problemi che hanno penalizzato oltre al tema dell'elettrificazione dell'auto che hanno penalizzato Stellantis negli ultimi mesi l'abbiamo commentata anche ieri su Classes NBC andiamo a vedere la situazione di Stellantis che non è cambiata molto sul grafico weekly nemmeno su quello giornaliero c'è questo supporto 1886 che forse potrebbe attenuare un po' la discesa e vedremo se da qua riuscirà a risollevarsi e rimbalzare però se mi dovesse bucare questo minimo e comunque la situazione tecnica è bruttina abbastanza complicata il rischio è quello che faccia un pullback verso il 19 e il 76 e poi riprenda a scendere ma ripeto sono cose che ho già detto anche ieri su Classes NBC vediamo invece la situazione di Acea e di Leonardo vediamo un po' Acea e Leonardo e poi vi dovrò salutare Acea eccola qua Acea brutta impostazione tecnica perché ha rotto come vedete anche qui l'INA che cos'è questo è un key reversal ribassista quindi qui sicuramente il titolo non era da comprare quindi se qualcuno ha pensato di comprare lì ha fatto male se qualcuno era in posizione poteva eventualmente fare un pensierino ad alleggerire se non ha alleggerito sul key reversal il pensierino andava fatto qui alla rottura del supporto statico e dinamico sui 16.31 adesso mi sta facendo il pullback verso il 16.31 con il rischio che vicino alle resistenze riprenda a scendere e possa andare giù questo lo mio scenario verso i 15.19 solo alla negazione di questo key reversal ribassista del 16.96 il titolo riprenderebbe forza e scongiurerebbe il rischio ribasso Leonardo e poi scusatemi ma vi dovrò salutare Leonardo eccolo qua ha trovato questo supporto sui 21 importante supporto statico è rimbalzato vedete questi livelli che sono stati tracciati in un spessore più alto nell'analisi precedente 22.70 quindi adesso le regole che ci diciamo mai comprare a cavallo di una resistenza prima che la resistenza venga rotta o trova un supporto nella resistenza siamo a ridosso di 22.70 quindi se volete comprare Leonardo farlo adesso anticipando la resistenza non è una buona idea tutt'al più si poteva pensare di comprarlo vicino a questo supporto dei 21.00 ma non adesso sui 22.70 chi è in posizione e non ha venduto Leonardo in ottica di medio lungo periodo ha fatto una discesa ecco come Unicredit difficilmente preventivabile in questo caso perché non abbiamo avuto pattern non abbiamo avuto elementi anticipatori di una discesa anzi aveva appena rotto le resistenze quindi Leonardo sicuramente titolo difficilissimo da cogliere questa discesa così come su Unicredit forse su Leonardo ancora di più perché su altri bancari essendoci un po' il mercato che scricchiolava c'era il tema dei tassi eccetera quindi che ci potesse essere una discesa dei bancari si poteva capire più facilmente che non Leonardo Leonardo invece è stata una ripeto difficilmente ipotizzabile anch'io sono stato colto un po' di sorpresa su Leonardo non mi aspettavo una discesa quantomeno di questa ampiezza però si è fermata dove? Sul supporto 21 sul 21 ci si poteva fare una ragionata sui 22 70 finché regge la resistenza no poi io dovrei lasciarvi non riesco a fare mi dispiace le le domande successive vedrò se nel corso della giornata dovesse avere 10 minuti per rispondervi nel quel caso le posterò con un video registrato all'interno del canale Telegram voi seguite sempre il canale Telegram perché lì metto tutte le novità tutte le analisi grazie a tutti e ci aggiorniamo spero nel corso della giornata con le analisi che avete richiesto e che non sono riuscito a fare buon trading a tutti e a domani dove parleremo di trading system faremo il punto della situazione sulle varie rubrique grazie a tutti grazie a tutti